Buonasera ragazzuoli, buonasera a tutti Buonasera a tutti ragazzuoli, siete pronti, siete carichi? Sì, dei gherichi Sì, ragà, andiamo avanti Io adesso metto il cellulare in silenzioso perché mi sono reso conto che ieri, ecco appunto Mi dà fastidio appunto mentre riguardavo la live che ci fosse sempre Mi rompe le scatole Ecco appunto, quindi ragà, silenzioso Ok Perfetto Ne sospetto che Che arrivate Grazie Perfetto Ok ragà, alle 20 e 30 iniziamo eh Sono le 20 e 28, quindi tra due minuti iniziamo Poi ragazzi volevo dirvi, ci tenevo a dire che sto lavorando al reparto tra virgolette donazioni Nel senso di aggiungere un qualcosa qua sotto nel canale Qua sotto la live dove voi potete, se volete, supportarmi con una piccola donazione Poi in questi giorni cerco di aggiungere questa opzione sul mio canale Twitch Ok, ci sto lavorando comunque ragazzi, ci sto lavorando Ciao amore mia, benvenuta Stiamo pronti, siamo carichi Ok, stavo sentendo se, stavo vedendo se sentivo bene L'audio Ok, meno un minuto ragazzi, tra un minuto iniziamo Comunque ragazzi siamo arrivati in un punto interessante, se vi ricordate Ci stiamo dirigendo verso la stazione tv di Seattle Per trovare questa Lea Questa ragazza di quel gruppo appunto che ha ucciso Joel E non vedo l'ora di farci conti con questa Lea Che manda pure le foto di nudo Sozzona Ai suoi compagni Comunque Ok amore, se puoi fare una storia su Instagram intanto Che avvisi che siamo in live Ok, sono le 20 e 30 ragazzi Quindi è il momento di This is the moment Grandissima This is the moment This is it Ok ragazzi Cominciamo Vai Si comincia Poi ragazzi attivate la campanellina Così ogni volta che sono in live Appunto il Twitch vi avvisa appunto Con una notifica Io non so perché adesso sul pc Mi si sta sempre bloccando la live Non vorrei che la connessione stasera un po' Ecco si è verificato un errore di rete Perfetto No però la live sta andando quindi Sarà un problema del pc Quanto pare si perché ho ricaricato la pagina Va bene Boh Allora Bene Amore si puoi darmi un feedback Se si vede bene Senti bene Ho paura che la connessione qua Però ho controllato la prima connessione Andava bene quindi Boh Allora Ragazzi Storia Capitol Hill Continua Tutto perfetto Ok Non vedi sgranato Pixel Pixeloso Vedi bene Ok Intanto do il benvenuto Tutti coloro che si sono Appena Connessi Ragazzi siamo pronti Io ho l'ansia Ormai questo gioco per me È ansia È senso buono Ma sono anche curioso di vedere cosa succede Come andrà avanti la cosa Ragazzi siamo solo all'inizio Siamo solo all'inizio Quindi Tanta roba Niente Sul pc mi si continua a bloccare la live Forse è meglio se Abbasso la qualità Della streaming Niente Continua a bloccarsi Provo a chiudere e riaprire internet Vediamo Cioè Internet Safari Vediamo se Perché ieri Mi è successo un bug Mentre guardavo uno streamer Che si bloccava sempre Poi sono riuscito ad entrato Da Safari E andava bene Ok No Continua a bloccarsi sul pc Vabbè Boh raga Non lo so Ok Ci siamo Perfetto Ho alzato l'audio Sul pc non mi funziona più Non vedo più la diretta Vabbè raga C'è qualcosa che non va sul pc Non carica più niente sul pc Che cosa sta succedendo Provo a riavviarlo Ah La live sta andando bene Si vede Si vede tutto perfetto Vabbè Vabbè ora Non vedo i vostri commenti Quindi Un attimo Magari vado su Sì 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 Un attimino ragazzi Eh Qua sto avendo dei problemi Non capisco il perché Faccia così Ok Vediamo se Si vede Si vede magari male No Sembra vedersi bene Vabbè raga Iniziamo Infatti adesso non mi si sta più bloccando Penso che era un bug Non lo so Comunque Ok Scusate l'attesa raga Ma È importante che Vada tutto bene Durante la streaming Perché se qualcosa va male Poi sono cacchi Perché io siccome devo ricaricare l'episodio su youtube Così si vede di merda Insomma capite che è un po' brutta la questione Ok Ciao Ellie Ciao mia caradina Ci si rivede Io non vedevo l'ora da ieri di rigiocare Cioè io di notte ieri volevo giocare Ma non potevo perché Era stardi Non potevo streamare E Ci siamo ragazzi Ci siamo Ok Ok ce ne eravamo fermati proprio qui ragazzi Quei davanti Quindi niente Adesso vedo un attimo Quanto c'è qualcosa da prendere Non credo Però faccio un giro Proprio per Essere sicuro Ok qua c'è una bottiglia Niente Nada Va bene Andiamo avanti ragazzi Eccoci qua L'ansia ragazzi L'ansia Ecco la tv Ok Non so come avrei fatto finora senza di te Oh carina Piantala Non ti avrei mai lasciata sola Sono felice di esserci Ragazzi Meno male Io ripeto Meno male che c'è Dina Meno male che c'è Dina Io Dina la sto amando Come personaggio Perché Ora come ora E' la figura Portante Oh carina Che merda E' una bomba Minchia pieno di infetti raga No 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 C'è un'altra bomba La misa ragazzi Ho visto il filo Non no 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 Non no no Pagano Purtroppo non ho un silenziatore. E non posso neanche fabbricarmelo. Emulsioni pompa, ragazzi. Ottimo. Che è una carta da collezione. Candelabra. Candelabra. Vabbè, non è il momento di guardare le carte. Sono degli infetti a pochi metri. Mamma mia, guardate i fili qua, raga. Qua c'è un'altra trappola. Porca miseria. Qua è pieno, raga, di trappola. Ah, ma sono proprio Claymore. Porca vacca. Sono delle Claymore, ragazzi. In mine di prossimità. Eh, sono equipaggiati questi maledetti, comunque. Sono veramente equipaggiati bene. C'è delle Claymore, porca miseria. Non è che sono bombe artigiane, sono Claymore. C'è roba militare. Ma c'è un'altra. Va, raga, io farei venire quegli infetti, farei esplodere la roba con gli infetti, sinceramente. Vediamo se riesco a fare sta cosa. Dai, vieni. Vieni, bravo. Vai, che salti in aria. BOOM! Quanto sono intelligente, eh. Ottimo. Guarda quante bombe. Ok, abbiamo le cose al massimo. Ok. Va bene. Ragazzi, voi non avete idea quanto mi sta piacendo della sto Fast 2. Non avete idea. Sta diventando uno dei miei giochi preferiti, ragazzi. E siamo solo all'inizio. Ok. Ragazzi, c'è la stazione radio. Ma qua, tecnicamente posso... Eh, sì. Però c'è una scala qua, Dina. Dove stai andando? Aspetta un attimo. Un bel cecchino qua sopra, no, eh. Eh, però munizioni. Ma cosa? Eh, Twitch mi dissocio totalmente. Quelli non sono falli. Ancora nessuna Iena. Altre quattro ore di turno. Merda. Ok. Vabbè, la... Cioè, sto qua ha disegnato... Quelli e delle te... Vabbè, delle... Ma che schifo. Ok. Twitch mi dissocio totalmente da quello che c'era là sopra. Ancora. Allora. Ok, Ellie, andiamo. Lupi? Non ne ho visti, ma non si sa mai. Non c'è nessuno. Vabbè, qua ci facciamo male se andiamo giù, però, eh. Meglio scendere da di qua. Ma che belli sti fiori blu. Oddio. Vabbè, dobbiamo per forza scendere e farci male. Bene. Vai. Sto bene? Sono vivo. Vai, Dina. Questa lì ha... E se arriviamo che è già andata via? Non voglio neanche pensarci. Vabbè, ragazzi, Ellie è proprio motivata a farli fuori. Eh sì. Sarebbero utili per fermare le orde. Sì, buona idea. Eh sì. Ma finiremmo per ammazzare qualche vagabondo. Potremmo segnalarle con dei cartelli. Se non sanno leggere. Usiamo i disegni. Tipo un piede che calpesta un filo con un'esplosione. Bella idea. E lo comprei io. Mi piace. Eh, occhio alle bombe perché... Sempre romantiche. Conoscevo un tizio, un amico di Joel, che aveva minato un'intera città. Bill! Ve lo ricordate? Non lo ricordate come girava. C'era solo lui. Cioè, viveva da solo in una città. Non si fidava. È triste. Però è sopravvissuto. Non devi per forza isolarti dal resto del mondo per restare qui. Ci sono vie di mezzo? Eh, guarda. Secondo te cos'è? Qualcuno vuole che accogliamo l'amore. Pensi abbia a che fare con lui? Non lo so. Ma è piuttosto strano. Dina, però occhio dove metti i piedi però, eh. Penso che ci sono altre bombe qua. Mezza all'erba, non si sa mai, eh. Infatti sto attento, ragazzi, perché... Feel your love. Sono scorte qua dentro. Viv, spero che questo messaggio ti raggiunga. Ho assistito all'accaduto. I lupi... Ha fatto... Ragazzi, non li chiamo più VLF. Li chiamo lupi perché... Ha fatto irruzione a casa tua e ha sottratto la refurtiva, Jimmy, gioielli, documenti, tessere annoiarie. Si rifiutava di rispondere alle domande, ripeteva di non sapere da dove sbucasse quella roba. Ho provato a spiegarglielo, di come la vita qui sia difficile, di come la fedra ci abbia abbandonati, spingendoci a gesti disperati. Ero quasi riuscita a convincerli, ma poi li hanno trovato in tasca una preghiera serafita. Abbiamo provato a fermarli, mi dispiace tanto. Raoul e Heather. Heather. Ok. Ma quindi la TV Station dov'è? Di là, mi sa, quindi dobbiamo andare di qua. Oh, ma... Questo è un clicker, però, eh. Dina, occhio! Questo è vivo. Oddio, un cavallo. Guarda. È di Tommy. È il cavallo di Tommy! Gli infetti se la sono spassata. No, ti prego, Tommy dov'è? Madonna. Stai bene? Sì, scusa, è solo... la pozza. Eh, immagino, porca miseria. Va bene. Avrà proseguito a piedi. Speriamo. Tu te la senti? Sì, sto bene. Davvero. Ragazzi, io a Dina mi sto affezionando come... Come una fidanzata. Cioè, nel senso... Stando nei pani di Ellie, c'è quell'affetto? Sì, eh... Ragazzi, veramente, Dina... Io, sinceramente, dai trailer l'avevo sottovalutata come personaggio. Perché pensavo morivo subito. E la vendetta di Ellie è per Dina. Invece è tutt'altra cosa. E mano a mano che conosco Dina... Mi piace un botto come personaggio. Cioè, Ellie e Dina sono una coppia bellissima, ragazzi. Bellissima. E tra tutte e due, la loro forza insieme è qualcosa di... Di bellissimo. Uh. Posso farmela? No, posso farmela. Pensavo di potermi fare il silenziatore. Ok, qua devo saltare. Ok, non c'è niente. Come si è ridotta questa città? Vostra non era così, vero? A posto non c'è stata una vera guerra civile. Le luci non hanno posto troppa resistenza. Oddio. Ho sbagliato il tasto. Pensavo di cambiare spalla. Oddio. Allora, ragazzi. Però vi fa inquiet... Cioè, pensate a trovarvi davanti a una cosa del genere. A questo paesaggio. Tutti quei palazzi vuoti. È molto inquietante. Questa nebbia, questo cielo nuvoloso. Mamma mia. E io che ho fatto urbex, che ho esplorato, indagato in luoghi abbandonati. Mi immedesimo di più in queste cose. Perché immagino come può essere una città così tutta... Mamma mia. Suggestiva, eh. Però inquietante. Eh, infatti. Non ci sono mai. Eh sì. È Mediaset. È lì. Di qua, Dina. Guarda quanti infetti. Mamma mia, raga. Speriamo che Tommy sta bene. Scommetto che è andato di là. Vedi, questa era una donna. Vedete che c'ha il seno. Porca miseria. Barricata robusta. Ok. Beh, da qui non si passa. Eh, direi di no. Porca... Eh, ho visto. No, in realtà l'avevo vista. Più che altro mi ero fermato... Per vedere se era qua davanti. Eh, però volendo io se lancio una... Un mattone sulla bomba la faccio esplodere da lontano. Però... Meglio non far casino, se no attiriamo gli infetti. Ecco, qua c'è un'altra. Madonna, raga. Che ansia però questo campo minato così, eh. Oddio, ma d'ora, raga. Mi stavo buttando su una bomba. Minchia, ma è pieno. Dina, occhio dove... Porca miseria, ragazzi. Ma si può. Ragazzi, stavo per fare una finaccia. Che ansia. Che poi sono pure verdi le bombe. Non è che le vedi. Sono i fili neri. Guarda, è pieno. Dove cacchio vado qua? Qua c'è una bomba, là c'è una bomba. Qui forse. Ok. È lì, occhio, perché qua... Un minimo passo falso è... Ci lasciamo le... Ecco, cerchiamo di star sempre sopra i veicoli. Almeno evitiamo... Guarda, là c'è un'altra. Evitiamo di saltare in aria. Però lì ci potrebbe essere qualcosa. Aspetta, Dina. Vado a vedere. Eh, già. Infatti, perché più che altro è l'erba alta che non fa vedere un cacchio. Perché sento le bombe verdi... Con l'erba alta... È un bordello. Sono stati furbi, questi stronzoni. No, ragazzi, ho un'ansia. Io devo per forza far così. Dov'andare sui veicoli, ragazzi. Ho l'ansia che per terra ci sia qualcosa che non vedo. È... È spaventoso, sta cosa. Però vedi, anche là dentro ci si potrebbe andare. A vedere se c'è qualcosa qua dentro. Dove solo vedere se non c'è... Ok, non sembra esserci niente. Ok. Vedi? Qua c'è qualcosa. Uh, tavolo da lavoro. Ottimo. Però prima fammi vedere se ci sono... Altri pezzi da prendere. Alcol. Ma cos'era un negozio di tipo di sport? Ah, no, una palestra. Era una palestra. Ok, perché ci potrebbero essere bombe anche qua dentro. Ragazzi, sto camminando molto piano perché... Sto cercando di vedere... Di scurtare nell'erbo se c'è qualche bomba o qualcosa. Ok. Allora, c'è... Uh, 150 pezzi abbiamo. Ragazzi, possiamo montare il mirino sul fucile. Diventa un cecchino. Che dite, lo metto? Ci possiamo mettere capacità o danni. Installare una nuova canna per ottenere maggiore potenza. Pure questo non è male. Però il mirino potrebbe essere... Un'ottima cosa. Sono indeciso tra la potenza o il mirino. Che dite voi? Io sono sputentato nel mirino. Potenza. Eh, in effetti è pure la potenza, però... Cioè, la potenza è vero. A parte che è quello che costa di più, quindi è il più prezioso. Che poi con la potenza tu ammazzi in un colpo invece che in due, quindi... Sì, avete ragione. Potenza. Vado di potenza. Almeno il prossimo lo mettiamo il mirino. Madonna, li cambia proprio la canna. Wow. Fighissimo. Ok, aspetta. Ah, possiamo mettergli anche la capacità. Capacità caricatore più 3. Velocità di ricarica. Vai. Facciamo anche questo. No, ragazzi, il fucile l'abbiamo quasi potenziato al massimo. Ci manca solo il mirino. Bello. Una carabina sta diventando praticamente buono. Ok, non abbiamo più pezzi, ragazzi, quindi... Ma viene così per ora. Ebbè. Ora tanta roba. Abbiamo 5 colpi in canna. No. 6 colpi in canna. Buono. Ok. Andiamo, Dina. Allora, con un salto ci arriverò là sopra. Non penso mai nella vita. Ci provo, ma non credo. No. Ma perché mi è assaltato lì? Mi è assaltato sulla bomba. Io avevo saltato sul camion. Ma Ellie, che cazzo fai? Cioè, mi è assaltato automaticamente sulla bomba. Dimmi qual è il problema. Vabbè. Meno male che ci ha salvato qui. Di nuovo quel disegno. Ah. Ma comunque ora, dai, sappiamo che con una bomba moriamo. Giustamente, perché... No, Ellie è attenta. Ellie è attenta. Ellie è attenta. Ok. Ah, così da passare. Bella. Cioè, io volevo arrampicarmi sopra il camion. Giustamente mi sa che non si poteva. Vabbè. Mi è assaltato sulla bomba. Vabbè. Guarda, qua c'è un'altra. Madonna, quante bombe, però. Qua c'è un'altra qua in mezzo. Guarda, si stronzoni. Guarda. E non si vede così, eh. Guarda che roba. Aha. E io vi fotto così. Qua c'è un'altra. Altre due. Eh già, siamo praticamente sotto. Però a Dina c'è un problema. Sono due bombe che ci bloccano completamente la via. Stavolta non possiamo girare intorno. Lancia un mattone. Ok, era la mia idea. Guarda, è il camion dei giornalisti. 13 news channel. TV Seattle, Washington. Ok, qua ci sono altre bombe. Non posso arrampicarmi sopra il camion, quindi... Devo far così per forza. Solo che non la vedo. Ok, qua. Oh, cazzo. Sta giù. Le scale sono minate. Puoi farle esplodere? No. Non qui. Oh, porca. E mo? E mo? Questo furgone non posso salire. Da qui? Non siamo molto discreti. Magari sarà lì a trovarci. Sì. O potrebbero tenderci un'imboscata. Speriamo di no. Devo entrare lì dentro. Ci siamo, ragazzi. Siamo arrivati. Eh, come l'hotel. Eh, come l'hotel. Eh, bisogna arrampicarsi qua. Aspetta, Dina, fammi vedersi qua c'è qualcosa. C'è niente. C'è niente. Oh, merda. Oh, cazzo. Brutale. È stato Tommy? Entriamo. Brutta storia, raga. Un arco! C'è una freccia qui, ragazzi. Oddio, speriamo di trovare l'arco. Sarebbe una bella arma stealth. Ok, Dina, qua c'è una corda. Però fammi vedere se... No, c'è più niente. Piano, Ellie. Perché arriviamo e ci sono sempre tutti morti? Sa che Tommy ci ha battuto sul tempo. Channel 13. Ok, possiamo farci un silenziatore. E sinceramente lo faccio. Potremmo sempre averne bisogno, ragazzi. Ok. Un'ascia. Eh, raga, l'ascia è cattiva. Lasciala, devo prendere. Anche se abbiamo... L'amazzata baseball modificata. Ma l'ascia è l'ascia. Eh, cavolo. Posso modificarmela? Vai. Ottimo. Raga, ma sentite l'ansia? Porca miseria. Orisca. Orisca. Quanta roba qua 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 Mamma mia Mamma mia ma questa è proprio sbudellata Raga ma che cacchio c'è in giro Che cacchio c'è in giro Mio Dio Infatti mamma mia Allora ci sono scale sia lì Che è qui Che è qui Quanta roba qua Seguimi Un attimo Dino Un attimo Dino Ok Ok Vedi? Forse è qui Ok Ok Mamma mia Mamma mia Non mi piace Non mi piace Ok Ok Non mi piace 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 E ora da che parte Non mi piace Non mi piace Ah qua si può entrare Non mi piace Oddio Che succede Che succede? Aspetta fammi controllare Per queste stanze Eh vedi che c'è roba Ok Ok Possiamo potenziarci qualcosa Uh Crea kit medici migliorati Crea un kit medico più efficace 50% di cura in più Buono Abbastanza Ellie attenta ti prego È lei È lei È Lea È lei Lea Madonna non ci si raga Sicura? Sì Quando si dice avere l'universo contro eh Madonna Tre frecce le hanno Non ha niente con sé Dine 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 Aspetta Aspetta È vicino a Jackson Come ridono gli stronzi Ecco la bastarda Abby È lei È quella che l'ha ucciso Ha tenuto solo quella di Ha tenuto solo quella di 3 in meno Qui il sito 2 Ci ricevete Unità di supporto India in arrivo allo studio tv Ripeto Unità India in arrivo Sì è meglio muoversi Il ministro mi manda di rinforzi È morta Come ti senti? Sono incazzata perché volevo parlarne Già Ma non ha fatto nulla Joel Avrebbe avuto poco senso costringerla a parlare Ha fatto parecchi chilometri per torturarlo Non mi importa se l'abbia ucciso o meno Capito Puoi cercare un posto sicuro? E frugare a me le sue cose? Certo Procediamo verso il centro Troveremo un palazzo sgombro Eccoli Eccoli Le iene? Qui le iene non finiscono mai Occhi aperti Qualcuno faccia rapporto via radio Presto Ragazzi quindi c'è un altro C'è un altro gruppo Oltre al VLF Queste sorte di iene Così le chiamano E mi sa che sono tipo una setta Psicopatica Cioè per impiccare così Porca miseria Con me Che stai facendo? Madonna raga quanti sono? Prima controlliamo il palazzo Io non li lascio qui Che cazzo serve tirarli giù ora? Vai! Ragazzi sono tantissimi eh Qua dobbiamo stare attenti attenti Esatto C'è un altro gruppo Eccolo Eccolo Sono saliti raga Porca Merda 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 Ok Dina attenta Sì Ti stanno attaccando Veniva da lì Venite bastardi venite AAAAAAHHHH Cazzo Lazzù Sulla destra! Porca... Un culo. Porca troia! Mi devo curare, aspettami. Dov'è andata? Dina! Porca... Dov'è? Dov'è? Ah, eccola. Oh, merda! Ellie! Ellie, avanti! Sono loro, sono qui! Ellie, usiamo la finestra! Oh, va dall'altra parte! Forza! Ora sei fottuto! Di qua! Porca! Dina, scappiamo! Caputana! Corri! Non mi viene! Che cattoletto! Fare il fuoco! Sono loro avanti! Dobbiamo seminarle! Di davanti! Oh, merda! Per ora può andare. Moriamoci! Oh, puttana! Dobbiamo entrare! Spore. La maschera. Ok. Oddio, quanto è buio qua. Ragazzi, ci sono spore, vuol dire che ci sono infetti però qua dentro, eh. Andiamo avanti. Beh, cordyceps. Spero ci sia un passaggio. Ce l'hessimo vista brutta. Lo so. Ecco. Ellie. Oh, merda. Allora, alla fine sono ieri un intrudito. Joe, Joe, attenzione. Ticker, state attenti. Perché cancio casino per degli intrusi? Le ieri hanno massacrato una squadra. Ah, perché non le lasciamo qui? Ci penseranno gli infetti. No, hanno ucciso Mike. Devo ricambiare il favore. L'hanno ammazzato anche Jordan. No. L'hanno tentato. Ticker, legge. Accidenti, ce l'hanno con noi! Ammazziamo quegli stifosi! Ragazzi, ho tirato i clicker verso di loro. È una strategia. Infatti li stanno facendo fuori. Sono troppi! Via, via! Quelle male Merda Guarda avanti Non restiamo qui troppo a lungo Prendi il possibile E sluggiamo Sto vedendo se ci sono munizioni o qualcosa Ottimo Sto vedendo Sto vedendo Sto vedendo Sto vedendo Sto vedendo Ma merda Porca miseria Sto vedendo Sto vedendo No ragazzi No e quando poi? No è impossibile No è impossibile Eh perché Jules Jules Non putrescente Che proseguendo Raga Che Ci credo Concordo Oh merda No 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 i bloater no, eh. Vi ricordate cos'è un bloater, vero? Sono gli infetti quelli grossi. Vai. Avvio. Lì c'è un'altra scala. Ok. Come ci arriviamo? Deve esserci un modo. Allora, qua c'è un cavo. Un po'. Ah, però lo lascio qua. Vediamo prima cosa c'è qui. Tavolo da lavoro. Vabbè, in realtà non abbiamo trovato chissà quanti pezzi. Vabbè, qua ce ne sono un po'. Non so cosa possiamo fare. Vediamo se possiamo fare qualcosina. Sette pezzi, non possiamo fare niente. Vabbè. Ok, raga, ne approfitto per sto leggera tranquillità, tra virgolette. Salvo la partita. Così tanto per sicurezza. Ok. E vado a prendermi un attimo, ragazzi, un bicchiere di tè freddo. Col ghiaccio anche. Perché sto morendo. Quindi, ragazzi, torno subito, eh. Grazie. 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 Ok, ragazzi. Prova, prova. Perfetto. Raga, mi sono cambiato la maglietta. Mi sono messo una canotta perché davvero sto crepando dal caldo. Una cosa incredibile. Ho preso un bel bicchiere di tè a limone con ghiaccio. Ah, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ok. Ok. Raga. Pronti? Andiamo avanti. Uh. Allora. Possiamo andare di là. Ah, ragazzi. Sono quasi convinto. Buone. E a sto punto, raga, provo a lanciare il cavo dall'altra parte. Altrimenti non so come... Anche se non so quanto può servire effettivamente lanciare un cavo dall'altra parte. Ah, no, così. Aspetta. Può funzionare. Eh, speriamo di non ammazzarci. Sì. Ok. Vai, Ellie. Ottimo. Vai, Dina. Dina. Ah, lei è scesa proprio. Vabbè, io ho fatto... Io ho voluto fare la... La figata. Allora. Vai, Dina. La scala è rotta. Cavolo. E ora? Come cacchio facciamo adesso? Ah, c'è una porta. Ah, c'è una porta. Dove è quanta roba qua? Eh, adesso? Eh? Adesso? Ah, cavolo. Sei un genio, Dina. Che non l'avevo vista mai nella vita. Eh, ragazza, questa cosa è una figata però, eh. Ok. Cos'è quel coso? Non è un bloater Cos'è quello che vuoi? Oddio Nemmeno noi È un nuovo infetto ragazzi Non è un bloater È un nuovo infetto Oh merda Mi sa che è più grosso di un bloater Tutto gobbo Tutto che schifo è Madonna Dina mi ha fatto prendere un colpo Porca miseria No devo scendere per forza là sotto Ma sei scemo? No regà c'è qualcosa lì Ah gli infetti non possono vedere la luce della torcia Ok buona sapersi Oh madonna No Eh ma mi dà fastidio a me la cosa della torcia È diversa È diversa Peccato che non posso lanciare le bombe così Posso solo piazzarle Oh merda Oh merda Oh c'è una bella cosa va Adesso attiriamo il ciccione Oddio Oddio Guarda che brutto che è Ma cos'è quella roba Ma raga Ora tiro qua E fa un bel salte Salto Pum Dina vieni Ma sono un idiota Ma sono un idiota Ma sono un idiota Oh cazzo Corri Per favore dio Che brutta cosa Che brutti che sono Regà Poi sono resistenti Ci sono voluti due molotov Per ucciderli Due molotov Due Più due bombe Ragazzi qua le cose Iniziano a farsi complicate Mi sa che le ho fatti fuori tutti Maledetti stronzi Ti hanno preso? Sembler? Li chiamano così? Li chambler? Sì Chambler? Da dove i diavolo saltano fuori Che cazzo ne so Ma sono disgustosi Mamma mia che schifo E qua lo disegniamo Dobbiamo spargere la voce Di sti cosi nuovi eh Che brutti che sono regà Sono proprio brutti Guardali Chambler Chambler Da dove arrivano i nuovi infetti Porca miseria Cioè sti cosi esplodono Se li stai vicino E ti infia Con l'acido Porca miseria Sono tipo kamikaze Però non muoiono loro Se esplodono Cioè E mettono tipo Madonna che schifo Guarda che brutti Ragazzi che schifo Sono disgustosi Tutte quelle bolle Che schifo Mamma mia Tanto prima ho fatto Un fail allucinante Perché ho tirato La botta Ho tirato il mattone Sulla bomba Non pensando che se tiro Il mattone sulla bomba Esplode Infatti ho fatto una cagata Vabbè È esperienza ragazzi È esperienza Ok rifacciamoci una volta Perché ne abbiamo A2 Che le abbiamo Usate tutte E regà le bombe Non mi fanno impazzire Perché nel primo Della sto fase Le bombe si potevano lanciare Che erano quelle chiudate Le bombe con i chiodi dentro Invece queste Bisogna solo piazzarle E fare arrivare uno Lì per farlo esplodere Tipo una clamor Cioè una mina a pressione Non è proprio una bomba normale Quindi preferisco la molotov Tutta la vita Di brucio E amen Allora Ok qua c'è roba Ma possibile Che è tutto pieno? Ehm Ehm Spera da vedere se posso riprendere Quelle robe che c'erano qua No Non posso Guarda le ustioni No sto bene Schifo Madonna cos'è sto rumore Fa caga addosso eh Vediamo dove ci porta Ragazzi Cosa stanno facendo Cosa stanno facendo Ellie e Dina Fai con calma C'è un coraggio allucinante C'è un coraggio allucinante Ci sono Quasi Ok C'è un coraggio allucinante C'è un coraggio allucinante C'è un coraggio allucinante Beh una routine di merda C'è un coraggio allucinante C'è un coraggio allucinante C'è un coraggio allucinante Daniela Star Daniela Star Ma quanto è buio qua Oh Una routine di merda Oddio cos'è Non ti sembra la donna Dei graffiti delle iene Già Cos'è il loro dio Dopo quello che ho visto Oddio Forse non voglio saperlo Neanch'io Cos'è quello raga Il simbolo delle iene Di quella setta Aspetta fammi controllare bene Sostanza Ehi Diwi Hai dimenticato di nuovo il codice? Portami una bibita Sarà e sarà tuo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Portami una bibita e sarà tuo Lo sapevo io che c'era l'enigma Guarda che c'è la bibita col foglietto La combinazione Il codice è 152 Ok ora basta indirsi Se non riesci a risolvere il resto Vuol dire che il nostro colomo è sbagliato Divertiti Ok quindi Dobbiamo indovinare gli altri due numeri Va bene Ah ecco Aspetta com'è che era 1 5 2 Allora vediamo 1 5 2 Eh bel casino adesso però 1 5 1 Ah i primi due non si possono più mettere Si possono mettere solo il 3 e il 4 adesso 4 3 Vediamo Sii Ci ho preso Sono un mago Lo so E' un bel po' di scorte qua raga Ottimo Ottimo Ok Ok Fatto Dina Andiamo Andiamo Che tenere Che tenere Ok Eh no Mi sa che ci dobbiamo Eh si Ci dobbiamo buttare di qua No Cos'è No c'è un altro Shambler Ragà che ansia Sti cose giganti però Senti lì Sono leoni Mamma mia Ma dov'è Ma dov'è Ah è lì Che schifo No tu non mi hai sentito Non mi hai visto Il problema è che mi sa che ci sono anche dei runner Infatti c'è un runner Ragà perché me lo sento qua Oddio è lì eh Ragà sono tantissimi Cosa devo fare Aiuto Meglio muoversi Perché mi segna rosso il tubo Non è che esplodo in aria Se lancio la moto avvicino ai tubi Ragà devo far fuori quel runner però Mi sta troppo sul cazzo Cioè devo È troppo un palo Di dietro Ave no Ara E Ara E Ara 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 Sì, madonna Ragazzi, con le tattiche Quello è morto Sono un mostro comunque Li ho attirati tutti lì Con una bottiglia normale Li ho incendiati tutti Però il problema è che adesso non c'ho più morto C'è un'altra bestione Devo usare le bombe Le bombe sono la salvezza, ragazzi Contro sti cosi È là dentro Poi se hanno messo uno schumbler Come cazzo si chiama Vuol dire che c'è là dentro Perché là dentro c'è qualcosa di utile Perché è dentro una stanza Prima vedo di qua se c'è qualcosa Ok Bottiglia Però non mi è chiaro se lì questi Questi infetti giganti Vedono In teoria non possono vedere In teoria In pratica non Mi sa di no Allora facciamo così Poi te ne metto un'altra qui Ok brutto idiota Dai È l'ora di venire Vieni Qui Boom Cacchio Esplosa anche l'altra Oddio Ragazzi ho anche veloci E' esploso Mi sa Che spav... Ragazzi la bomba non gli ha fatto... Gli ha fatto il solletico la bomba sto coso Madonna Ragazzi avevo ragione Sono una specie di kamikaze Se ti arrivano vicino esplodono Si ammazzano Però a te ti uccidono Invece i bloater no I bloater ti lanciavano solo le robe acide addosso E se ti prendevano ti spaccavano la testa Però nel senso Questi qua sono molto più pericolosi Dei bloater E se ti prendi Ok da qua dove sono arrivato Da che parte raga? Siamo in un labirinto a sto posto Ok di qua Aspetta Ok Ah luce Siamo quasi fuori Raga manca l'aria pure a me vi giuro Queste maschere anticasso addosso Che accidenti è successo qui? Sembra un incidente ferroviario Grazie Sherlock Gesù Chissà per quanto li hanno tenuti in funzione dopo l'epidemia Porca miseria Vedo una luce in funzione Eh anch'io Problema è arrivarci Allora saliamo Però non mi convinco tanto sti treni così eh Non è che cadono no eh Ehi la luce è vicina Eh già E qua cosa c'è? Possiamo salire da lì Aspetta Tina che qua c'è qualcosa Infatti Bottiglia E basta E basta Cosa hai trovato? Grande Dina Ok Andiamo Siamo quasi fuori Raga ma vedi che è stanca lei No ragazzi C'è qualcosa che non va Si è appoggiata lì così No no ragazzi C'è qualcosa E ste cose le leggo C'è le Ma che spavento? Lo sapevo che doveva cadere il treno Lo sapevo No 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 Mi ha spaccato la maschera Mi ha spaccato Ellie La maschera Tieni Ti do la mia No 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 Non toglierla Dina no Ellie Ferma Cosa? No Ellie Basta Non sono infetta Sono immune Non sto tossendo vedi Cazzo Oh, por... Oh, merda! Corri, 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 corri! Corri, 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 quanti sono? Corri, corri! No! A destra! Avviamo! Merda! No, che ha, che ha, che ha? No, rega, dai! No, rega, cosa c'è, Dina? Che ne diresti di un riposo in teatro? Mi sembra una grande idea Ci siamo quasi Tranquilla Vieni Ragazzi, c'è qualcosa che non va Un teatro abbandonato Vai che l'hanno morso, ho visto sul collo, rega C'è qualcosa sul collo, rega Spero di aver visto male Vuoi dirmi cos'è che non va? Che cos'ho che non va? Ellie Ti ho visto respirare le spore Te l'ho detto Sono immune Ok Sei immune Ma che è vero Che cazzo stai dicendo? E dopo il morso non è successo niente Eh, te l'ho detto Maria e Tommy E Joel Sono gli unici che lo sanno Sapevano E ora anche tu Non posso Non posso Infettarti se è questo che ti preoccupa Non è neanche renderti immune Vuoi dire qualcosa? È il mio No, ti prego Credo di essere incinta Cosa? Cosa? Incinta? Tranquilla, non è tua E beh, certo E di chi allora? Del cinese? Quindi che facciamo ora? Niente Devo solo riposarmi un attimo Che cazzo? Da quanto tempo lo sai? Ho un ritardo di qualche settimana Qualche settimana? Potevamo Potevamo tornare indietro Non lo sapevo Non ero sicura, ok? Non volevo essere un peggio Ora invece non lo sei, vero? Oh merda Ecco perché era stanca Oh, meglio incinta Che morsa Insomma Però È pericoloso per te Stare in giro così Controllo che qui sia sicura Tu riposati Che colpo di scena È incinta Del giapponese Sicuro Perché stava con quello Jess, lì Quindi hanno anche Parca miseria, ragazzi Che sa quanti personaggi muoiono qui Cassandra Il Pinnacle Theater Presenta An American Tragedy Cassandra Bisogna ragazzi Che accento English Aspetta Nei bagni Non ho controllato In effetti Non c'è niente Cavolo ragazzi Adesso le cose si complicano Perché secondo me Ellie Non vuole che Dina Stia in giro Cioè rischi la vita Con un bambino in grembo Cioè voglio dire Poi magari c'è anche Ci può stare che C'è rimasto anche male Perché Sono fidanzate Tecnicamente Lei è incinta di un altro Non è una cosa facile Però cavolo Dina pure tu Cioè Hai il timore Di essere incinta Comunque il dubbio Non venire Capisco di stare Vicino ad Ellie Però cacchio Hai un bambino in grembo Cioè è chiaro che se esci Dalle mu- Dalla sicurezza Devi Se incontri infetti Devi correre Devi Cioè non è Porca miseria Adesso Adesso è un bordello però Serve una chiave Bene Di sopra allora Eh due le cose erano Ragazzi O era infetta O era incinta Effettivamente Ci è rimasto male Ragazzi Vi giuro Cioè non è una cosa brutta Per carità Però Non è un posto Da ragazzi incinte Questo Cioè Un bel casino adesso Cioè doveva rimanere Jackson lei Capisco che ama Ellie e tutto Non voleva farla andare Da sola però Cos'è sta roba Ma la si è messa a diluviare Aspetta però 13 settembre Non torneranno Saranno caduti in un imboscato Mi hanno scaricato Non è colpa mia Se mi sono ammalato Almeno la febbre è passata Ma muoio di fame Forse dovrei perlustrare Gli edifici vicini In cerca di cibo E provare a contattare qualcuno Alla radio 15 settembre La pioggia è incessante Significa che almeno Non morirò di sete Sfortunatamente Fa saltare in continuazione La corrente E usare la radio Diventa complicato Non Non che mi abbia Risposto qualcuno Ma il Ma i lupi Non Non possono aver colpito Tutte le postazioni radio Dalla fedra Non può essere Devo insistere 16 settembre Ho sognato che mi ridevano Mentre morivo Distanguato Per un proiettile Allo stomaco Mi sono alzato un'ora fa Tremante Mi serve una sigaretta Sono in un So di teatro Mi sarei aspettato Di trovare Uno o due pacchetti in giro E invece no 19 settembre È saltata di nuovo La corrente Vado sul tetto Per vedere di ripestinarla E non è più tornato Evidentemente Buonasera New York C056 Benvenuto Qui viveva qualcuno Eh sì che viveva qualcuno Tesoro Una radio Non c'è corrente Va riattivata la corrente Eh Mi sono andato sul tetto Quindi Ok Andiamo Allì Guarda che figata Che si mette il cappuccio Che piove Raga Che figata Vedi questi sono dettagli Bello Bello Ok Siamo entrati a Assassin's Creed Adesso Nessuno può fermarci No maschera Infatti lo stavo giusto per dire Ellie C'è il cappuccio Puoi metterlo E l'ha fatto E se quello non è Vabbè Doviamo seguire il filo Eccolo qua Infatti Mi sa che è rimasto Fulminato Ragazzi Ho questa impressione Ah Stavendo i problemi di connessione Cavolo Adesso è a posto Ok 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 Incidente Mi sei fritto Beh Voglio te che mi Malonelli Allora Dina è di sotto Che sta riposando Siamo un attimo saliti Per Vedere se il palazzo Era al sicuro Abbiamo trovato una radio Però non funzionava Perché appunto Andava riattivata la corrente E ora abbiamo Riattivata Quindi Stiamo andando a vedere E cosa figa E cosa figa Ragazzi E lì si mette Il cappuccio Quando piove Cioè È un dettaglio Allucinante Bellissimo Ok Forse possiamo chiamare Jackson Maria Con la radio Le chiavi Ecco Quelle che ci servivano Non funziona quindi la radio Porca vacca Ragazzi Siamo in un teatro Abbandonato Un po' inquietante Beyond Ma qua non l'abbiamo controllato 4 settembre Io e Perez Green Adam Siamo arrivati Alla postazione radio Due giorni fa E i lupi Non si sono ancora fatti vivi Per fortuna La città gli appartiene Ormai Siamo riusciti a metterci in salvo Per una combinazione di fortuna e tempismo Torres Ward E gli altri Sanno già morti Ci accampiamo qui Per ora ci basta essere vivi 6 settembre Non riesco a dormire Brucio per la febbre Niente medicine Ho cercato ovunque Non abbiamo nulla A parte gli uniformi Nessuna Risposta alla radio Quanti di noi ce l'avranno fatta 7 settembre Febbricciola Non ho ferite profonde Posso Escludere l'infezione Gli altri stanno attendendo il buio Per fare una sorta Una sortita all'ospedale In cerca di medicina e altro Prima di spostarci altrove Sono bravi ragazzi Ah prima di spostarci altrove Sono bravi ragazzi Ok Ed è lì 10 settembre Perché ci mettono tanto? Non sono più tornati Eh sì È quello fulminato di sopra Che abbiamo trovato Il fulminato Probabilmente era lui Ok Dina sta ancora dormendo lì Quindi non è successo niente Per fortuna Perfetto Niente Torniamo lì sotto E apriamo la porta Andiamo a controllare come stava Si è addormentato Raga ma è un bel casino Comunque Questa situazione qui Perché non è certo posto Per una donna incinta Porca miseria Ok Ok Mamma mia Mamma mia Mi ricorda il cinema abbandonato Che abbiamo esplorato noi due Solo che è tutto Non è tutto bruciato qua Allora Fammi vedere un attimo The Sick Habit Con i Brick Seat Houses Pinnacle Theater 25 dollari all'ingresso I provenienti saranno I provenienti saranno Devoluti al centro per l'infanzia di Seattle Scaletta dei Sick Habit Ah è una band Prima di andare lì Fammi controllare bene Cosa c'è qua Non sembra esserci niente Da brividi Non ci credo Cosa? La chitarra E' vero Avevo vomitato E' vero Non era per i cadaveri Oddio raga silenzio Che adesso mi sa che suona Vai Ellie Facci sognare Raga la amo Quando si mette a suonare Oddio ragazzi Si era l'accordo Della canzone di Joel Infatti Non riesci mai a cantarla Però ci avete fatto caso Non Tre anni prima E' un flashback raga Oddio Joel Fanno rivedere Oddio Oddio Raga quanto mi manca Joel Oddio stiamo usando Ellie da piccola ancora Perché vuoi rovinarti la sorpresa ora Chissà Un dinosauro? Smettila di insistere Non te lo dico Vediamo Un elefante? E' una cabrio? Non indovinerai E' un cucciolo? Tanti gattini? Su è una nidiata? Cos'è una nidiata? Un mucchio di gattini? E' più carino chiamarlo un mucchio di gattini Non lo so perché ma si dice nidiata Stai attento Tranquillo Ups Bastano Ah sto a nuotare adesso lei E' imparato alla fine a nuotare Ma sei impazzito? Dovresti vedere la tua faccia ora E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima piccola Sì ridi vecchietto Questa me la paghi Da quella parte? Ti odio Migliore è vista d'occhio Ma nuotare non vuol dire agitarci Devi solo Pingere l'acqua con tutto il braccio Bla 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 Esatto vedo che recepisci Allì vieni guarda Vedi quel cerdo? Dove? Visto? Di là guarda Sì Ho visto Sì Sembra Allora com'è? Rifrescante Non è bello essere lanciato in acqua vero? Beh In realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto Ti ho fregato E questo ti fa arrabbiare Sì Questo mi fa parecchio arrabbiare Muoviti Sì? Ah Yeah Dobbiamo passare sotto Hai un bel respiro Sì nessun problema Wow ragazzi Arrivedere Joel Mi sto commuovendo È il mio professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come scusa? Litigavo con un'amica Diceva che le luci erano terroriste Finivamo sempre in punizione Dovresti smetterla di arrabbiarti per quello che dicono gli altri Difficile con gli idioti Provaci almeno Un altro bel tuffo Dove mi stai portando? Un nuovo paio di scarpe? Ehi ma quanta nera? Non quante vorrei Vieni Ok Al diavolo Ci rinuncio Ad ora Ma Per caso è un enorme collezione di fumetti Anzi no Una collezione di DVD Sì E quale delle due? Sì E basta O magari di laser disc Ne ho sentito parlare Guardate che bella la natura Mamma mia È un lago Che figata Il re delle lucerto e le tiranne Che bestione Il T-Rex raga Già l'ha promesso di portarmi in campagna La settimana prossima Per il mio compleanno Dici di volermi mostrare qualcosa che adorerò Era tutto impettito Il vecchio trombone Kate si è seduta accanto a me Per guardare il film I nostri gomiti continuano a sfiorarsi Non è che lo faceva apposta Chi lo sa Forse no Dina mi ha Dina mi ha fatto una corona per il compleanno Ah quindi Dina la conosceva Vabbè giustamente sì Perché Sono già Jackson loro In teoria Quindi da piccole Che si conoscono Dina mi ha fatto una corona per il compleanno È tornata Da quel campeggio carica di carta È spettacolare Oddio qua c'è roba da leggere Raga però Tommy e Joel Ha fatto il disegno di Tommy e Joel Ma è proprio brava a disegnare Però porca vacca La rotazione dei campi È una rottura di palle Non mi spiego come possa piacere a qualcuno Chiedere a Maria Quando posso iniziare l'addestramento Per le pattuglie Dina e io Abbiamo trovato un vecchio campeggio Troppo figo Dice che i bambini ci andavano a giocare d'estate Era pieno di materiali Per lavoretti d'arte Ha preso della carta colorata E ne ha ricavato Delle corone Mentre fuori pioveva Che bella giornata Aspetta fammi idea Se dietro ancora c'è roba Guarda che belli Ti prego fammi salire sul T-Rex Oddio mi fa salire veramente Che figata Vai Ellie Che figo Mi tuffo raga Hai visto? Sì ho visto Sono stata brava Sei stata brava Non romperti niente Che figata Ma da l'amo Ellie ragazze È troppo tenera Che figo raga Anche io mi ricordo Che nelle Marche Da piccolo C'era un parco Tutto di dinosauri Così giganti Era una figata Non è stato una volta Da piccola Era tipo un parco Dei dinosauri È un museo Questo cos'è Un libro Ma è sui dinosauri Guarda che artigli Quello è un veloci raptor Mamma Di realtà è un di Di noi Nico Sono quasi sicuro Che siano Veloci raptor Sì sono un veloci raptor Jurassic park Che figa ragazzi Hanno nominato anche Jurassic park Praticamente Sì è un veloci raptor Perché c'è l'artiglio Sulla zampa Allì in su È un veloci raptor Che figata Mamma mia Pronto? Sì mi spiace Ma i dinosauri Sono impegnati Che stai facendo Un attimo Un dinosauro Si è liberato Divertente Sì era divertente Capita Sei vecchio Avevo capito Sì Bene Oddio C'era che adesso Pensare che Adesso mi sto abituando A stare con lei Con lui So già che Quando ritorneremo Nel presente Perché adesso Ellie sta ricordando Questa cosa Sentiremo ancora più Il vuoto del Joel Ragazzi Mamma mia Cioè ci fanno Bopo in medesimare In lei Comsognatus Ah sì sti qua Nome altisonante Per questi Scricci Si attaccavano In branco Sì qua Sono quelli piccolini Che c'erano in Jurassic Park Che ha ucciduto Una bambina C'erano anche loro Nel film Si Ma come non è vero Joel è bellissimo Jurassic Park Oddio non come il primo Questo è vero Però È vero comunque Oh il triceratopo Winnie Triceratopo Vuol dire Faccia con tre corna Non deve essere bello Quel corno Puntato addosso Triceratopo Finalmente un nome familiare Il Dimetrodon Era un predatore Alfa Cos'è un predatore Alfa? Un predatore Supercazzuto Oh Eppure è piccolino Era riferito a me Gallimimus Significa Imitatore di galli Chi inventa Questi nomi? Il licenziato Beh Che Mi cretino Il Brachiosaurus Mangiava Trecento chili Di piante al giorno Porca vaca Immagina la cacca C'era una scena In cui Un personaggio Diceva Questa sì Che è una bella montagna Di merda È vero Che film è? Possiamo guardarlo? Ho un'idea Appena torniamo a Jackson Serata a cinema È vero Quello con gli occhiali Il professorino Diceva Il professore Quello che si innamorava Di lei Della moglie Di Del professor Grant Diceva Questa sì Che è una bella montagna Di merda Cervelloni Che figata raga Ste cose Sti riferimenti ai film Madonna mia Sto Che bello Che bello Che bello Che bello Vabbè dai C'è pure il cappello Del professor Grant Di Jurassic Park Raga Ma di che cosa stiamo parlando Ma siccome glielo dice Guarda Ecco qui Bello Brachiosauro Io ho sempre detto Brachiosauro Anch'io Brachiosauro Anch'io sempre ho detto Brachiosauro Infatti Hanno due nomi Infatti C'è Brachiosauro E Brachiosauro Tutte due Oviraptor Oddio Le ali Questo sembra Questo sembra un uccello Beh i pariontologi Ritenevano che gli uccelli Discendessero dai dinosauri Oh Fermi tutti È arrivato il professore Qualcosa l'ho imparato anch'io Da un film Andiamo avanti Tirannosaurus Rex X mamma mia Guarda quanto era grosso Veloci raptor Veloci raptor Joel Questo è quello di cui parlavi prima Il veloci raptor È piccolino Non puoi mai fidarti dei sim Eh piccolino Ma se ti prendeva la veloci raptor Eri morto L'impronte Fiego Che u Ok Ok Andare di là Ma Dopo questa Ellie Dai riprendilo Ma andiamo Billie Jean Tu 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 Ma Nightwalk Cos'hai lì? Queste carte dei supereroi Erano famose credo Se non erro piacevano anche a Sara O erano quelle sugli eserini strani Non ricordo Le vorrei anch'io Infatti sono fighe Quelle carte Faccia Che faccia che ha Così ragazzi guarda Tipo Guarda che sono ricco Ci credo Buona questa Cunga Ok basta Che figata Non c'è niente qua Un bagno Non è andato Joel Ah si è qua Oh qua Ehi Questo aveva un cervello grande come una noce Ma pensa Allora avete qualcosa in comune Ah 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 Buona Che testa piccola Diventerà una moda Spero non diventi una moda Ehi 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 Non provare a toglierlo Compio gli anni Decido io Ah la portata qua Per il compleanno Trofeo guadagnato Ti sta a meraviglia Eh non sta a male Il cappello Dai E ora Vediamo uscire Ragazzi Sinceramente Vado un attimo a riprendermi un po' di tè Perché ho veramente sete Torno subito Ragazzi comunque è una figata Mamma mia C'è aiuto Grazie 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 Ok Ok sono tornato Ah ho dimenticato il tè Ok 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 Venga una sete Incredibile Musèo di storia naturale del Wyoming Ma come l'hai trovato? Maria E' lei che ne ha parlato Ho pensato potesse piacerti Hai pensato bene E adesso raga? Devo tornare dentro mi sa C'è qualcosa Che non abbiamo visto Raga mi metto il singhiozzo Non so il motivo Cioè Così A caso Ah c'è il piano di sopra pure Però come ci si arriva Ci deve essere qualcosa Qualche scala Ah ecco Madonna raga Non l'avevo vista Ma quanto sono Matto Visitavi spesso musei Sì Sì Sarà Gli adorava Non esagerami E' trascinati in ogni singolo museo del Texas Cavolo Sei pure texano Joel Non vuoi metterti il cappello da cowboy Sembra una giraffa Sì Hai ragione Ha un suo fascino Te l'ho detto Mamma mia Mamma mia Sistema solare Che figata Pensa a te Dall'84 Una scimmia Mosche Studiare le radiazioni ad alta quota E sono sopravvissute Sei in gamba ragazzina Grazie Sono diventate un super mosche Cosa? No Mamma mia Ma è un UFO quello No in realtà penso che sia la capsula che lanciavano Poi per tornare sulla terra Nel mare Vediamo un attimo Cosa ho scritto One day Data di nascita No non è possibile Non è possibile perché il primo della sto fase era ambientato nel 2013 mi pare Lei c'era già Quindi no Non è possibile Eh avrò sbagliato È impossibile Vabbè Vabbè provo ad andare su della sto fase Proprio il gioco e vedi La trama Quando è ambientato I rover non hanno il volante Hanno i joystick E i joystick Aspetta È quello vero Dato che l'originale è rimasto sulla luna Direi di no Che figata raga Mi sto perdendo In ste cose Troppo bello Che nostalgia Aspetta qua c'è la porta Però prima vorrei andare a vedere lì Uh le tutte spaziali Eh te l'ho detto io È impossibile che sia andata nel 2019 Anzi mi pare che il 2 è ambientato nel 2019 Credo Vabbè perché aspetta Ellie c'ha 14 anni nel primo Ed è nel 2013 Quindi fai il conto 2013 meno 14 Aspetta Aspetta ma quindi è Aspetta È del 99 Da 9 Ah 20 anni Giusto Giusto Quindi è più È più nel futuro Vero 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 E ho dimenticato di quella transizione 2033 Ah sì No il casco Bellissimo Che odore c'è di dentro? Di spazio E polvere Che odore c'è di dentro? Dopo di te Che figata Che figata Che figo raga È pazzesco Ok Wow Guarda quanti sono questi comandi È incredibile cazzo Insomma Riesci a immaginare com'è Buon compleanno piccola Che terro Questo È un pezzo di storia Un reperto raro Una cassetta Prendila Ora chiudi gli occhi Mi farà la pena Ok Oddio Guarda che si immagina L'Apollo 11 è decollato Che bel momento Questo ragazzi Grazie a tutti 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 Massimo Grazie a tutti Ok Venga ho le lacrime Che bello momento Che bella la musica Ah questa è la sfida che c'è lei da grande Sullo zaino Credo Infatti vedi Ragazzi non ho parole Tuffandomi Joel Guarda impara Vieni qui No Ehi di chi è il compleanno Non te ne approfittare Voglio un bel tuffo Non possiamo fermarci Geronimo Non male Non è Grazie. Ehi, dammi una spinta. Ehm, non lo so. Ti apro io la porta. Coraggio, non molliamo ora. Forza. Vai. Ok. Sì, come te l'apro la porta? Fauna del Nord America. Oh mio Dio, che figata. Ma quanto è grosso un alce. Mi serviva un abbraccio. I killed for them. Ho ucciso per loro. Oddio, ma quella è Dwige. È troppo buio qui. Sì, infatti non mi piace tanto Ellie. I quattro soldati del cancello, l'ultimo pengeva. Cosa so se è scritto inquietanti, ragazzi. C'è qualcuno qua dentro, forse. Ellie, perché dovevamo andare... Cioè, non ci volevamo fare i cacchi nostri, no. Non dovevamo andare via. Non ti bastava il museo dei dinosauri, no. Madonna, raga, il bisonte. Oh, merda. Cos'era? La donna che abbiamo torturato... È morta soffocata dal suo sangue? Ok. Cioè, ok, è un bel cavolo, però. I disperati che si erano introdotti nel campo erano soldati affamati. Ma chi è che ha scritto? Ah, vieni fuori. Il ragazzo che si è lanciato un'esplosione, non ho potuto fermarlo. Le persone del furgone li abbiamo chiusi dentro e sparsi di benzina. Ma chi è, raga? Volevamo mettere fine alle sofferenze. Volevamo salvare l'umanità. Ogni qualvolta sacrificavamo una parte di noi stessi. Il nostro leader ribadivano. Ne verrà la pena. Ora siamo sciolti. I nostri peccati non sono valsi la pena. Pensavo che venire qui avrebbe risvegliato qualcosa. Uno scopo. I miei genitori mi ci portavano spesso. È uno dei miei primi ricordi, prima del contagio. Prima della crudeltà e della violenza. Ricordi che ora risvegliano solo altra rabbia. Non voglio più vivere in questo mondo. Non posso accettare quel che sono ora. Oh ca... Che spavento! È un cazzo di cinghiale! Va a cagare. Minchietta andata di culo Ellie. Quello ti incornava e ti uccideva. Bugiarti. Che diavolo era? Solo un animale. Ma cavolo le luci bugiarti. Ok, muoviamoci. Voglio accendere un falò prima che faccia buio. Forza. La canzone, raga. Si atto il giorno 2. Cavolo, è passato un giorno. Avete dormito per un giorno? Edina? Wow, si è andato a tirare la giacca. No, regà, dov'è? Allora. 过 tilt. Allora. Grazie. Oh, cazzo. Sei sempre bellissimo. Guarda, ragazzi, tutto in ansia. Oh, l'antenna. Hanno trovato il caos alla scuola. Bene. Questo tizio, Owen, è scomparso. Magari l'ha preso Tommy. Magari. Lei, invece, ha ancora niente. Unità Romeo rivolta al sito 2. Lo so. Allora, i numeri sono postazioni. Lo studio TV dove eravamo è i 6. Le comunicazioni arrivano spesso da 2, credo sia la loro base. E' utile. Senti. Ieri sera è stato stupido. Ciao. Vittime rinvenute al 14. Tutte le unità in rapporto. Pasqua. Mistico 13. Unità Lima in arrivo. Quanto iene? Pasqua. Nessuna iene. Un intruso. Un maschio è armato. Un intruso maschio? Tommy. Dove è il 14? Non sono sicuro al 100%. Ok, prova. Beh, se questo è il 7, mentre il 12 è questo, qua giù. Penso sia qui, in questo quartiere. Il Crest. Il Crest. Ok. Andiamo da sole, vero? No, non puoi venire pure tu. Ma non ce la fai? È lì, non farla venire. No, va bene. Lo troverò, ok? Tu continua a spiarli. Brava. Rimani qua al sicuro. Sì, ok. Eh, Amoma, è l'unica soluzione. Non può venire lì in mezzo ai nemici. Incinta. Non riesce neanche... Alza una sedia. La cosa bella era se magari riuscivamo a contattare via radio Jackson e farla venire a prendere Dina. Però non si può. In effetti l'ha da sola, raga, però non va neanche bene. Porca puttana. Il Crest. Ragazzi, andiamo da soli adesso, eh. Ok, il Crest. Così il posto è questo? Sì, direi che è questo. Eh, direi proprio di sì, Ellie. Deve essere Tommy. Merda. Vabbè, ma siamo da soli, eh. Il che è un po' più ansiogeno la cosa, perché... Prima avere le dira al nostro fianco era... Era meglio. Adesso si doveva anche farcela da soli. Ok. Ok, crea fumogini extra. Vabbè, fumogini extra, sinceramente, non me ne faccio proprio niente. Quindi aspetto, piuttosto mi... Un momento disteso rapido, 50. Aspetto di far questo. Come faccio ora? Come? Avevamo appena... Non avrei dovuto dirglielo. Ora mi tratterà diversamente, lo so. Perché mi si doveva rompere la maschera? Cazzo! Quando ho scoperto di essere... Quando ho scoperto di essere incinta? Dove eravamo un paio di settimane fa? Boys? Ricordo che... A Kenwick... Kenwick aveva vomitato. Non ce la faccio. Ora tutto ha senso, merda. La nausea. Doveva essere esausta. Che cazzo, Dina? Perché non me l'hai detto? Perché non ti sei fidata? Di lei ti fidi, invece? Che faccio ora? Non si torna indietro, è tardi. Chiudiamo questa faccenda il prima possibile. Eh, raga. È così, raga. Ok, ma posso fare la furtività. Movimento da disteso rapido. Incrementa la velocità di movimento da disteso. Ok, vai. Le regole dei lupi vanno rispettate. Ok, vai. Ah, la stessa cosa che abbiamo trovato l'altra volta. Ok, va. Ok, va. Grazie. Bloccata. Oh, tavolo da lavoro. Che schifo. Quanto era grosso quel topo? Wow. Buon compleanno. Il miglior cacciatore di clicker di tutta la ZQ della zona quarantena. Oddio, dimmi che c'è un arco qua in giro, ti prego. Boris Legzov, Sunwhale Archery, primo posto. Ci deve essere un arco qua dentro. Se c'è un trofeo di arciere, al libro di logica, ci dovrebbe essere un arco, no? Ok, vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Allora, ok, sì, possiamo potenziare un po' tutto. Allora, vediamo un po'. Che ci potenziamo, ragazzi? Eh, sta pistola non ce la possiamo potenziare neanche un po'. Però, sinceramente, potenziare questa. Perché quell'altra di Joel la usiamo poco. Questa almeno può anche mettere il silenziatore, quindi... Allora, vediamo un po'. Questo abbiamo fatto. Possiamo fare o il rinculo. Installa un compensore per ridurre il rinculo dell'arma. O la cadenza di tiro. Sostituisci la molla del cane per incrementare la cadenza di tiro. Ma io ti darai il rinculo. Figa. Ok. Perfetto. Davvero mi devo fidare che non c'è un cavolo di arco qua dentro? Non posso non aver messo l'arco. Come arma. È impossibile. Era l'arma di Ellie, cavolo. Quella in cui era più in gamba. Non ancora. Ok. Ok. Grazie. Grazie. C'erano stati qua, no? Così. No, c'erano stati. Ah, sì che c'erano stati. Grazie. Qua pure. Ragazzi, controllando bene se... Appunto. Se ho preso tutto. Grazie. 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 Oh, porca. I bastardi sono troppi. Resisti, Tommy. Sperto il tasto. Sperto il tasto. Sperto il tasto. Boris, i lupi hanno fatto irruzione nel QG della fedra e ho recuperato l'elemento dei membri. Mi hanno riferito che stanno rastrellando casa per casa alla ricerca di soldati. Non voglio finire giustiziata nella mia città. Quando la situazione sarà più tranquilla, tornerò sotto falso nome. Non ho trovato Elfi. Ho lasciato il suo cibo sul retro di casa tua. Se non dovessi tornare, falli tante coccole da parte mia. Ha sempre avuto un debole per te e Sofia. Yolanda. Ok. Aspetta però, fammi vedere. Di lui. Dorata. Se non è dire. So… … … … … … No, no, no. L'esercito teneva per sé tutte le risorse, controllava le nostre comunicazioni, impartiva ordini. I lupi hanno fatto esattamente lo stesso e ora vogliono trasferire tutti quanti dentro lo stadio. Stiamo scherzando? Sono cresciuto in questa città e l'ho difesa dall'epidemia. Non ho la minima intenzione di rintanarmi in un campo profughi in cui sarò costretto a chiedere il permesso anche solo per pulirmi il culo. Questa è casa mia. Ci serve un piano, non possiamo arrenderci al peggio. Questa è casa mia. Questa è casa mia. Questa è casa mia. Questa è casa mia. cavolo che è scritto l fuck the vlf come entro in quella stanza lì chiusa c'è una porta qua dietro come ci entro lì raga c'è roba qua dentro c'è una finestra lì aspetta eh qua c'è una finestra eh però non posso come faccio l'unica via d'accesso è quella bloccata eh che schifo Eccoci qua. Da, otto al massimo. Porca miseria. Allora, guardi, qua c'è la stessa cosa dall'altra parte. Ok. Penso di aver visto tutto. Ok. C'è l'olfatto, mi trova. Ok. 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 Sì, presto! Tutte merda! Un altro cane! Ma che cazzo è? Scovatela! E ora? Un altro cane! Un altro cane! Un altro cane! Un altro cane! Ok. Eh, il cane, purtroppo ragazzi... Non c'è un'altra scelta. Mamma mia che ansia! Mamma mia che ansia! Sì! No! Sì, diocardo! Ass 화azione! Epp ang dealerica mittari! Tampare a giocare. Che va senza egli pericurare al tuo rumore! Ok Ok Ci siamo cavata molto bene comunque Ok Non c'è tutto qua? No Ragazzi ho una paura Allucinante di dimenticare Magari che c'è l'arco E lo dimentico Che non lo trovo da qualche paura C'ho sto terrore Perché l'arco è utilissimo È un'arma silenziosa Prima ho trovato un trofeo di un arciere Quindi ho detto Magari un indizio qua vicino Possiamo trovare l'arco Invece Non ce l'ho trovato Ho il timore che non lo trovo Ma c'è ma non lo trovo io Non vorrei dimenticarmelo da qualche parte Ragazzi è importantissimo l'arco Vabbè Penso di aver controllato tutto Quindi Non ce l'ho trovato No c'è Sì Non ce l'ho trovato mamma mia guardate la montagna con la nebbia pazzesco no pensavo di scavare che ora avranno sentito speriamo di no ho ho perfetto che è sta musica ho mamma mia già tre ore e venti di live porca miseria ok qua c'è un tavolo da lavoro oh youthful allora boris mi spiace tanto quello che i lupi hanno fatto a sofia è terrificante non posso fare a meno di sentirmi in qualche modo irresponsabile ho sempre spronato la città opporsi ai lupi quando lei ha iniziato a imbattere a imbrattare di vernice le loro scritte avrei dovuto fermarla non ti avevo mai parlato pensavo avrebbe smesso so che vorresti vendicarti credimi capisco cosa provi ma non possiamo non ora dobbiamo usare la testa attendere che si calmino le acque gli altri si sospettano che sei tu a gestire la situazione del resto comandavi tu prima dell'epidemia è il momento di riprendere le redini prima di perdere tutto ciò per cui abbiamo sempre lottato uli ottimo altri pezzi ok vediamo un po' ok possiamo potenziarci al massimo la pistola cadenza di tiro stabilità capacità devi potenziarci al massimo la pistola ragazzi a questo punto cadenza di tiro vai ok pistola abbiamo fatto al massimo trofeo guadagnato meccanica bellica che figata come la pulisce oh 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 magari è diventato un gioiellino è diventata eh ma che roba spettacolo ok ok con dodici pezzi non penso che possiamo fare nient'altro infatti va bene ok 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 mamma mia venite a prendermi stronzi aspetta fammi vedere prima su questo veicolo ok 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 un'altra volta un'altra volta uli sai che resteremo sempre legati a il crest ma dopo la morte di sofia abbiamo deciso di trasferirci allo stadio insieme agli altri necessario per proteggere i nostri figli famiglia brandman ps abbiamo visto boris un paio di ore fa abbiamo provato a scambiarci due parole ma non sembrava in sé dovresti parlargli spero vi unirete da noi ah un negozio di tatuaggi un negozio di tatuaggi un negozio di tatuaggi è vero mamma mia abbiamo 29 pillole il prossimo questo qua lo facciamo a 40 ma non manca tanto silenziatori migliorati questo ragazzo è importante eliminazioni furtivi più veloci questo pure è molto importante ah raga la fortività devo potenziarla al massimo assolutamente ma parrucchiere non è non è non è non è non è non è pensato La casa di Zee. Quanti ce n'erano? Cosa ho fatto? Sono stato un genio! Ho avuto la prontezza di incendia... Ragazzi, ho un mostro. Uno, due, tre, quattro, cinque erano là dentro. Cinque! Tutti rinchiusi qua dentro. Quanta roba. Devono essere chiusi qui dentro da anni. Eh, appunto. Cassaforte, ragazzi, però non so la combinazione, quindi... Madonna, che schifo, tutto pieno di funghi! Sai che puzza che c'è qua dentro? Ma aspetta, io l'ho trovato per caso un... Non mi ricordo, un documento con qualche codice. Non credo. Aspetta. Ma più che altro non mi ricordo. No, questo no. Messaggio di condoglianze. Messaggio serve un piano. Yolanda. No, mi sa di no. Vedi, abbiamo purtroppo trovato sto cacchio di... Di disegno con l'arco. Ragazzi, non vorrei che me lo sono dimenticato a qualche parte. Mi uccido, veramente. 9, 14, 13. Però è una data, quindi non credo... Però ci provo a metterlo. 9, 14, 13. 9, 14, 13. No. No. Niente ragazzi, mi sa che dobbiamo trovarlo a sto punto. Non abbiamo trovato niente. Dovremmo trovare da qualche parte il codice. Qui c'è questo cassone dell'immondizia. Secondo me da qualche parte possiamo metterlo per salire. O forse no. No, mi sa che era solo per bloccare la porta per gli infetti. Mamma mia, raga. Comunque ti ci perdi a esplorare. È spettacolare sta cosa. Il micio! Cos'è? Oh no. C'è un gigante. C'è un gigante. E vabbè, li dobbiamo... Dobbiamo esplorare, quindi... Cavolo, è bloccata. Eh, se spacco i vetri mi sente quello, però. Facciamo così. Piazziamo una bella... Bomba. Non lo ha sentito? Ah, sì che ho sentito. Vai, vieni, vieni. Brava Ellie. Ah, un bar. Ok. È stato Boris, l'ho visto aprire il fuoco contro il furgone di quella pattuglia del VLF. Dio santo, posso capirlo, gli hanno ammazzato una figlia, ma così ci hanno condannati a morte. L'unica soluzione è consegnarlo. So che siete amici, ma se i lupi hanno sparato a una ragazzina per dei graffiti, non non si immaginare come reagirebbero con la comunità se scoprissero che tra noi si nasconde l'assassino di tre dei loro. Vediamoci al solito posto dopo il coprifuoco. Cioè, i ragazzi hanno ammazzato una... i lupi hanno ammazzato una ragazzina a sangue freddo perché ha fatto un graffito. Cioè, proprio... porca loca. Che animali, ragazzi. Cos'era? Ah, no, vedi, anche avevo visto qualcosa. Sarsi come, ragazzi. Sì, come, ragazzi. Quindi, la fine. Non c'è, non è vero. Non c'è. Non c'è, non c'è. Un po' di tutto. Non c'è. Non c'è. Ci sono un po' di tutto. Non c'è, non c'è. Non c'è. Non c'è. C'è un po' di tutto. Eccola la combinazione Ehi Dale ti chiederà la combinazione della cosa forte Ma è meglio se vai tu di personale ufficiale per inserirla Altrimenti ti scoccherà Ti scoccherà Altre 8 volte Ok 30, 82, 65 Trovata Ok di qua mi sembra che si va avanti però eh Ok Non c'eravamo venuti qua però Eh vedi Oh si aspetta Eh no Vedi raga è un minimo che ci perdiamo le robe però eh Porca vacca ma non è che me ne sono accorto Oh Gesù Devo proprio Lo sapevo che c'era qualcosa qua sotto Sottofanti Sottofanti Oh Gesù Non c'eravamo venuti qua Sottofanti Ragazzi, ho un mostro. Sono troppo bravo a usare le bombe e le morto. Cioè, c'erano due cosi qua sotto. Shambler, non mi viene in mente sto nome, non riesco a tenermelo in testa. C'erano due shambler qua sotto, ragazzi. Due. Questa è la combo perfetta, comunque. Le metti una bomba e poi gli lanci una molotov e muoiono. Ok. Aspetta, voglio controllare bene se c'è qualcos'altro qua sotto. No, sembra esserci più niente. Uh, negozio di giocattoli. Aspetta, posso potenziarmi? Oh, sì. Energia incrementata. Incremento l'energia massima. Porca vacca. Vabbè, facciamo silenziatori migliorati. Robustezza da 3 a 5, buono. Vai. Ok. Ok, ma abbiamo i silenziatori più resistenti. Invece di 3 colpi, so 5 colpi. Buono, ragazzi. Oppala. Sport dall'aperto. In questo numero. Recensiti 15 mirini per fucili da caccia. 10 cose da sapere prima di squogliare un cervo. A caccia da fare. I riscontri migliori sui coltelli, fotocamere, visioni notturni e altri strumenti. Nuovo ramo di potenziamento precisione. Oh, abbiamo sbloccato l'ultimo ramo. Ah, no, poi c'è un altro. Incremento stabilità mira, movimento mira rapido, raggio modalità ascolto, respiro. Primi R3 in fase di mira per trattenere il respiro e stabilizzare l'arma. Cavolo. Vabbè, sta cosa dobbiamo farla. Poi la fortività l'abbiamo fatta tutta. Poi dobbiamo potenziare questi. Assolutamente. Tanto il 25% di energia in più possiamo fare anche a me. Cioè, è utile. Magari faremo queste, basta. Però poi, raga, la mira è importante. Oddio, tra l'altro... Madonna! Questo è un essere umano con tutti i funghi! Ah, che schifo! Mamma mia! Mi ha preso tutto? Ok, andiamo a aprire quella cassaforte, raga, adesso. Se mi ricordo dov'è. Come arrivo a quelle scale? Eh, ci siamo arrivati, ci sappiamo arrivare, Ali, tranquilla. Devo solo ritrovare la... La cassaforte. La cassaforte. Oh! Mamma mia, vedi però? Che mi dimentico. È sempre meglio ricontrollare due volte. Ah no, qua siamo dalle scale, aspetta, no. Dov'era la cassaforte? Non mi ricordo. Era in quel vicolo dove c'era l'officina, però non mi ricordo dov'è il vicolo. Di là, forse. C'è. Allora, era... 20... No, 30, 82, 65. 30, 82, 65. La fondina per le pistole! Sì! Vedi, raga, esplorare, vedi? Bella lì. Ora abbiamo le due pistole... Vedi? Ottimo. Più tutte ste cose. Ok. Mamma mia, raga, spettacolo. Eh, ci siamo potenziati mica male adesso, eh. eh. OK. OK. Mmh. Eccoci qua Uh Ok Tommy arrivo Eeeh Eeeh Vedi però Eh ma non ho l'arco Ellie Possibile che mi hanno dato le frecce senza l'arco raga Non è che l'ho dimenticato qualche Proprio Cioè Credo aver esplorato tutto Non si sa mai Oddio magari Lo troviamo più avanti Lo troverai più avanti Oh Aspetta Cos'era sto esplosione Oh cavolo Speriamo che è stato Tommy Non sono stati gli altri Oh porca trota Ah sono infetti Pensavo fossero Umani Oh porca Merda Eh lì dietro Ragazzi Devo imparare bene ancora a schivare Perché a volte vado Ok 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 Grazie a tutti. Ok. No, il tv mi si sta spegnendo. Che sete, ragazzi. Ah. Un barbecue. E qui? Beh. Madonna, che brutta casa. Cioè, nel senso, un po' inquietante. Sai, gli sconti da prendere il volo. Un resort. Aspetta. Oh, furtivi... No. Incremento stabilità mira. Migliore stabilità e precisione della mira in movimento, vai. Ok. 100% stabilità, 100% precisione. Ebbè. Ci sta. Infatti, ma è più ferma la mira adesso. Ci sta eccome. Allora. È spavento! Eccolo l'arco. Mi sa che sto qua era quello là del disegno. Eccolo, ragazzi. L'arco. Ma tu, guarda il sangue in faccia. Oh, yes. Ora sì che si ragiona. Eh, raga, a Ellie piace un botto l'arco. È la sua arma preferita. Formula sbloccata. Frecce? Ah, posso crearmi le frecce. È figo. Fighissimo. Sta cosa nel primo non si poteva fare. Non potevi crearti le frecce. Non potevi solo trovare in giro. Ok. Oh, sì, ragazzi. Ora sì che si ragiona. Oddio, che bello. Vedete com'è? Fighissimo, cavolo. Si potrà potenziare anche l'arco? Penso di sì. Spero di qua si va avanti, però. Eh, però non posso tornare indietro, ok. Ah, mi fa provare? A volte è possibile recuperare la freccia dopo un colpo alla testa. Porca vacca, ragazzi. So fare come? Ok. 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 Ce l'ho al massimo. Cavolo. Lupi, raga. Non lo so, ma quello stronzo è vicino. Merda. I bersagli sono due. Quel fumo da dove viene? Ha fatto saltare un camion. Perché non l'avete fermato? Dobbiamo trovarli. Voglio quegli intrusi del cazzo. Raga, ma a me dispiace uscire i cani, però. Porca miseria. Ok. Ah, forse è meglio evitarli. Quelli con i cani. Più che altro perché ci si ammazza il cane, automaticamente si allertano, quindi. Raga, l'erba sembra vera. È spaventoso. No. Preso. Cavolo! Bene. Merda. Non c'è qualcuno qui. Rivoltate ogni singolo edificio. Preso. Raga, ora che ho l'arco sono fottuti. Porca vacca. Il cane è morto! Dobbiamo fare qualcosa! Qualcuno ha ammazzato il cane! Da dove sono passati? C'è qualcuno. Vado a controllare. Dai, guarda le spalle. È lei! È il garage! Merda! Brutta stronza! Buon attenzione! Già! Buon attenzione! Buon attenzione! Buon attenzione! Conchio! L'orca Troia Sono sicuro che ce n'è un altro L'ho sentita Eccola L'è in alto Eccola lì Eccola 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 Oh no Eccola 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 Oh, merda. Mamma mia, raga. Che spettacolo. Che sudata. Che sudata. Mi sa che torniamo da Dina adesso. Che sudata. Oddio, speriamo che sta bene, ragazzi. Ti prego, apri la porta. Ti prego, apri la porta. Sì. Oddio, grazie a Dio. Oh, mio Dio. Jesse. Ciao, Dina. Uff. Ehi, stai bene? Sì, mi serve solo una dormita. Ah, è meglio entrare. Sì, ok, vieni. Piano. Occhio, Kelly è gelosa, eh? Come hai sperato, Maria? Sono un ninja. I guai dei miei amici sono miei. Sei guarita? Ah, è... Solo un mal di stomaco. Vieni. Metti ti comodo, ok? No, no. Ah, non devi, davvero. Ah, smettila. Quando sei partita da Jackson? È il giorno dopo di voi, ma in Oregon ho trovato troppo male. Poi ho fatto tirate da 18 ore. È gelosa, raga. È gelosa. Di brutto pure. Tommy? È un ricordo. Mi stai ascoltando? Sì. Sì, certo. Ok. Oh mio Dio, raga. Sti ricordi mi fanno impazzire, me. Comunque. Due anni prima. Questo silenzio. Mi scordi. Ragazzi, io per stasera termino qui perché siamo quasi a 5 ore di live. Sono 4 e 37. Porca miseria. E... Nulla. È stato un episodio... Allucinante. Allucinante. Eh, sul più bello, eh, lo so. Continuiamo domani, ragazzi. Continuiamo domani. Cosa c'è qua di nuovo? È stato un episodio davvero intenso, al dir poco. Salviamo la partita, ragazzi. Darei anche il mio complesso. Ok, fermo, fermo. Ok. Ragazzi, grazie per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima. Qui da Rackstube. E a domani, probabilmente. Che è sudata. Grazie. Grazie. E a domani, probabilmente. Grazie. 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 Grazie.